Una normale operazione di controllo anti-covid a Sondrio smaschera uno scambio di droga. Sequestrati 32,5 grammi tra ascisce ed eroina e un coltello di quasi 20 centimetri. In Val Chiavenna l'opera ai carabinieri forestali, sequestrata una ditta di smaltimento di inerti. Oggi a Ponte in Valtellina, nella sede Melavì, l'incontro tra l'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi e i vertici del comparto orto frutticolo. Previsti i risarcimenti e l'attuazione di sistemi protettivi adeguati per le colture dei meleti. Sondrio è il riflesso dell'Italia. Negli ultimi dieci anni è registrato un calo vertiginoso degli impiegati del comparto pubblico. Necessari concorsi territoriali e adeguati affiancamenti per le nuove leve. Gli strascichi più pesanti sul settore sanitario, che in provincia dà lavoro a 3.000 persone. Un mese di aprile è insolito e freddo. Ancora neve in Valtellina, Val Chiavenna e Val Malenco, anche a basse quote e attorno a Sondrio. Disaggi limitati per la viabilità. Buonasera ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Apriamo il nostro giornale con una notizia appena arrivata, un'ottima notizia per il turismo di montagna. La conferenza delle regioni e delle province autonome ha infatti oggi approvato la proposta di riparto dei 700 milioni di euro messi a disposizione dal decreto sostegno al turismo di montagna, più ulteriori 100 milioni di euro. Ne danno notizie in una nota congiunta l'assessore di Regione Lombardia, enti locali in montagna e piccoli comuni Massimo Sertori, il sottosegretario con delega allo sport Antonio Rossi e tutti gli assessori regionali dell'Arco Alpino e delle province autonome. Nel dettaglio 430 milioni di euro saranno destinati per gli indennizi degli impianti di risalita, applicando il metodo già utilizzato in Francia che si basa sul calo del fatturato tra le stagioni invernali 2019 e 2020. Pari a 40 milioni invece è la dotazione prevista per gli indennizi dei maestri di sci e queste risorse saranno ripartite tra le regioni in base al numero degli iscritti e agli albi professionali. Infine è stato definito il riparto dei 230 milioni di indennizi destinati a tutte le partite IVA della filiera. La quota spettante alle singole regioni per l'indennizzo di ristoranti, rifugi, noleggiatori, fornitori e di tutte le attività correlate sarà ripartita sulla base delle presenze turistiche e quindi le singole regioni determineranno tempi e modi di indennizi. È la prima volta, spiegano gli esponenti delle regioni alpine, che il governo stabilisce un intervento mirato al turismo della montagna, uno dei settori più colpiti dalla pandemia e lo fa con l'articolo 2 del decreto sostegni mettendo in campo 800 milioni di euro. L'invito che avanziamo al governo, arrivati a questo punto, concludono l'assessore Sertori e Antonio Rossi, così come l'impegno delle regioni, è quello di comprimere il più possibile i tempi per far sì che l'attività indennizzata percepisca le risorse nel più breve tempo possibile. E ora torniamo al nostro giornale, iniziamo con due notizie di cronaca. Militari dell'arma in Val Chiavenna e pulizia nel capoluogo, impegnati rispettivamente nell'ambito del rispetto ambientale e nella prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ne parliamo nel prossimo servizio. Carabinieri forestali di Chiavenna ed agenti della questura di Sondrio all'opera in due differenti azioni operate negli scorsi giorni. I militari dell'arma hanno contestato i reati di furto aggravato, occupazione abusiva di suoli, danneggiamento e deturpamento bellezze naturali, abuso edilizio ed ambientale, oltre alla gestione illecita di rifiuti, a tre referenti di una ditta a gestione familiare specializzata nella lavorazione degli inerti in Val Chiavenna. I carabinieri forestali, in sede di indagini, hanno rilevato che l'impresa, non rispettando le autorizzazioni circa il perimetro territoriale sul quale operare, aveva allargato i confini della propria area di lavorazione dei materiali di circa il doppio della metratura. Rinvenuti inoltre, all'interno del capannone dell'impresa, non autorizzata al trattamento di rifiuti speciali, cumuli di materiale ferroso e rifiuti derivanti da lavorazioni edili, ad intervenire su richiesta dei militari dell'arma l'Agenzia per la protezione ambientale del Dipartimento di Sondrio. All'impianto, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo, sono stati apposti i sigilli per il sequestro. A Sondrio, quartiere La Piastra, nel pomeriggio di ieri, agenti della squadra volante all'opera. Durante un normale controllo per il rispetto delle norme anti-Covid-19, gli uomini della questura hanno fermato ed identificato due giovani, già noti alle autorità, i quali si aggiravano per il quartiere con un affare sospetto. Durante le operazioni di perquisizione, sequestrato un coltello a serramanico, lungo poco meno di 20 centimetri. Durante un successivo controllo, nell'area circostante al blocco dei due sospetti, gli agenti hanno rinvenuto un involucro con al suo interno poco più di 32 grammi di eroina ed hashish, sostanze che, a detta dei due fermati, erano state abbandonate lì da altri due sospetti, visti dagli stessi agenti allontanarsi poco prima del controllo. I poliziotti hanno proceduto con il sequestro sia dell'arma bianca che della sostanza stupefacente. I cambiamenti climatici sono un'incognita pesante con cui la frutticoltura valtellinese dovrà fare i conti sempre più sia nel presente che nel futuro. Oggi l'incontro in Valtellina a Ponte tra l'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi e i produttori di mele che nei giorni scorsi hanno subito pesanti danni raccolti a causa delle gelate. In agenda l'estensione degli impianti antibrina e le richieste di risarcimento alle imprese. Le contromisure non riguardano soltanto la situazione attuale ma saranno adottate anche in ottica futura. Simone Belletti. Incontro proficuo quest'oggi a Ponte in Valtellina presso la sede della società agricola Melavì tra l'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi, il consigliere regionale Simona Pedrazzi e i vertici di Melavì e Coldiretti Sondrio in seguito alle gelate dei giorni scorsi che hanno recato danni ingenti e raccolti. Le temperature rigide hanno compromesso le piante che erano già in fase di fioritura un po' su tutte le colture sparse in provincia di Sondrio. Dalle stime che ho raccolto oggi qua a Melavì si va da un 30-40% di piante colpite quindi con un calo della produzione che rischia di essere significativo. Cosa fare? Io credo che vadano subito avviate le pratiche per chiedere la calamità e quindi una deroga ai sistemi di indennizzo nazionali. Già ho fatto la lettera al Ministro proprio nelle scorse giornate per chiedere una deroga al decreto 102. Sicuramente le perdite sono state ingenti vedremo nei prossimi mesi la stima sarà sicuramente più precisa perdite che però bisogna considerare per quelle che sono e cercare di trovare soprattutto dei sistemi di prevenzione perché appunto questi eventi eccezionali ma che ormai eccezionali non sono più perché si verificano regolarmente tutti gli anni siano gestiti il più possibile dall'attività agricola. Non so come potrebbero, come possono indennizzare un po' gli agricoltori che hanno avuto questa perdita e anche i trasformatori come siamo noi che certamente non avendo il prodotto insomma è poi difficile anche andare avanti. Le contromisure non riguardano solo la situazione attuale ma verranno adottate anche in chiave futura. Un'estensione di impianti antibrina un potenziamento dei sistemi assicurativi fondi di mutualità sono cose da mettere in azienda sin da subito ho dato la nostra disponibilità come regione per tutelare nei prossimi anni un comparto fondamentale per l'agricoltura e poi il paesaggio della Valtellina. Il primo, quello importante, è di attuare una misura efficace ed efficiente affinché le gelate possano in qualche modo non essere così un grosso problema o il problema del nostro comparto delle mele. E poi sicuramente quello del marketing poter mettere in promozione un prodotto che è forte è un prodotto di ottima qualità un prodotto che è una qualità superiore a tanti altri ma che in modo commerciale si sente un attimino inferiore. Rolfi assicura vicinanza e sostegno agli agricoltori nel corso dell'incontro sono stati esaminati i progetti non solo a breve termine. È anche un potenziamento degli strumenti che tra l'altro noi sosteniamo penso ai fondi di mutualità per tutelare il reddito degli agricoltori lo si è fatto per altre filiere agricole il latte, la carne facciamolo anche per la frutticoltura in particolare di montagna che ha una sua valenza importante e da ultimo, ma non per ultimo anche la volontà di accompagnare Mela V a tornare, e quindi la Mela GP della Valtellina a tornare ad essere conosciute e apprezzate ai Lombardi. Diminuzione del personale e necessità di un piano straordinario di assunzioni e pensionamenti in crescita non sono pochi i problemi legati alla pubblica amministrazione ne abbiamo parlato oggi con il prefetto di Sondrio Salvatore Pasquariello Il Servizio Nonostante l'emergenza in atto da più di un anno a questa parte abbia dimostrato con forza quale ruolo di centralità occupino amministrazioni regionali e comunali i numeri in costante diminuzione del personale impiegato nel settore pubblico non presentano un quadro confortante. Negli ultimi dieci anni in Italia purtroppo il fenomeno di una riduzione dell'organico nella pubblica amministrazione di circa 212 mila unità su scala nazionale la provincia di Sondrio non è esente da questo fenomeno Sì, ne abbiamo parlato nella conferenza provinciale permanente del febbraio scorso anche in questo territorio provinciale gli uffici della pubblica amministrazione denotano una grave carenza di personale e soprattutto nella prospettiva dei prossimi tre anni, cinque anni la situazione peggiorerà moltissimo se non si interviene con delle misure di una certa sostanza. Tre esempi per tutti nella nostra provincia specchio di una situazione piuttosto critica il Tribunale di Sondrio, l'archivio di Stato e la Prefettura. Se pensate, solo per fare un esempio ai funzionari già rispetto ai 21 della pianta organica ne abbiamo 18 di questi 18 5 quest'anno vanno in pensione e nei prossimi tre anni altri 5 quindi noi avremo solo 8 persone su 21 per fare un lavoro che viene richiesto a una prefettura in una provincia. Impoverimento del personale conseguente necessità di un piano straordinario di assunzioni e poi i pensionamenti in crescita gravati dalla mancanza di affiancamenti e di passaggi di consegne. Il personale che speriamo arriverà nei prossimi anni non troverà però in servizio coloro che sono andati in pensione e che non hanno avuto modo di lasciare e di trasmettere di consegnare la propria professionalità la propria esperienza e questo è una grave perdita per la pubblica amministrazione perché appunto si rischia di non trasmettere ai nuovi arrivati tutto quel bagaglio di conoscenze preziose che sicuramente aiuta ad arricchire la professionalità di ciascun impiegato. Il problema investe anche il settore della sanità che nella nostra provincia dà lavoro a circa 3.000 persone su un totale di 5.000 impiegati del comparto pubblico. Il suggerimento di considerare dei concorsi anche decentrati in modo che chi partecipa a un concorso per esempio per il territorio di Sondrio sappia che si deve fermare sul territorio o essere del territorio in modo che non si assista a trasferimenti imprevisti. Un particolare apprezzamento e ringraziamento a tutti coloro che lavorano negli uffici che costituiscono la pubblica amministrazione in questa provincia perché compiono un grande lavoro nonostante siano in pochi e nonostante i compiti aumentino ogni giorno. Un mese di aprile è insolito e molto molto freddo ancora neve in Valtellina e in Val Chiavenna e in Val Malenco e anche a basse quote intorno a Sondrio disagi limitati per fortuna per la viabilità vediamo tanto per cambiare nevica in perfetta tendenza con l'andamento dell'intera stagione invernale un'altra ondata di maltempo in Valtellina Val Chiavenna Val Malenco non sembra dare tregua non solo in Altavalle ma ad Aprica e forse maggiormente sulle colline del capoluogo a soli 500 metri di quota in paesi come Tresivio Postalesio Castione Triangia la neve ha fatto il suo ritorno in perfetta sintonia con le temperature attorno allo zero termico per le strade della magnifica terra la delicata spruzzata col sole che ha fatto Capolino si è sciolta presto senza creare disagi agli automezzi per i quali proprio oggi scade l'obbligo di indossare pneumatici da neve o trasportare le catene a bordo quest'anno ne è venuta tantissima e peccato che gli impianti erano chiusi però il paesaggio era meraviglioso effetto scenico a parte la percezione dei più è quella del disinteresse rafforzato dall'abitudine della rassegnazione che ha preso il posto del consueto gioire a chi giova se la stagione sciistica non è partita con positivo effetto domino su tutta l'economia il coltello si rigira sempre nella solita ferita una stagione stupenda con tanta neve così rovinata dalla pandemia non abbiamo potuto lavorare e purtroppo siare speriamo che finisca tutto al più presto con i vaccini questa nevicata è l'ennesima presa in giro si spera sia l'ultima che speriamo sia l'ultima nevicata di quest'inverno lunghissimo non ne possiamo più del freddo e della neve e della pandemia la neve è sempre magica non fa più effetto e forse è ora di dire basta non ne vogliamo più sembrava che fosse arrivata la primavera perché una decina di giorni fa era veramente caldo però non ci meravigliamo perché in questo periodo bormio la neve può arrivare tranquillamente c'è anche chi vede il lato positivo della situazione e scia ai piedi ne approfitta per praticare sano sport quello concesso nonostante i divieti imposti dalla pandemia fortunato a chi fa sci alpinismo che può andare a godersi ancora delle belle escursioni soprattutto appunto con questa neve che sarà polvere in alto un po' più difficile in basso ma sarà divertente consiglio a tutti gli appassionati di approfittare di questa nevicata tardiva e speriamo in una primavera un po' più calda la parola più pronunciata se prima era rinascita oggi è un suo sinonimo primavera tutto sommato bene vuol dire che si guarda al futuro per la neve si spera un arrivederci alla fine dell'anno questa nevicata al 15 di aprile è sicuramente fuori dal comune per quanto riguarda la città di Bormio quest'anno è stato in realtà molto particolare per tutto ciò che ha riguardato le condizioni atmosferiche perché come sapete è venuta giù più neve del normale ed è un dispiacere doppio visto che non abbiamo voluto sciare o comunque goderci la montagna come sempre ma sono certo che torneremo quanto prima quindi veniteci a trovare e un saluto da qui la nevicata oggi ci spiazza perché in questo momento soprattutto vorremmo vedere un segno di rinascita di rinascita per tutti noi per l'umore dunque anche il terreno e venga la primavera ne abbiamo proprio bisogno il rilancio dell'attrattività turistica passa attraverso la formazione una convinzione questa che è alla base della strategia condivisa tra Comune di Sondrio Unione del Commercio del Turismo Valtellina Turismo e Consorzio BIM e che si è concretizzata nell'iniziativa Sondrio Turistica un percorso da condividere l'obiettivo è quello di definire un prodotto completo per tutte le stagioni dell'anno vediamo di che si tratta Sondrio ha vissuto per anni di un turismo legato al business legato ad una città di servizi oggi questa parte sta venendo a mancare però Sondrio si inserisce in maniera naturale al centro di una valle che offre veramente tante opportunità basta che ci si guardi attorno abbiamo dei meravigliosi terrazzamenti abbiamo delle montagne bellissime per cui come non non approfittare di questa centralità lezioni di accoglienza lezioni di attrattività rivolte ad albergatori ristoratori commercianti gestori di B&B e case vacanze guide turistiche agenzie di viaggio gestori di servizi sportivi e culturali dopo un anno abbondante di restrizioni da pandemia anche il turismo è cambiato e dunque è necessario preparare la ripartenza in primis quella di Sondrio città del vino città al centro delle alpi ma anche città che lo smart working ha profondamente svuotato un capoluogo di provincia con tante peculiarità sul quale ed è questa la scommessa gli operatori soprattutto i più giovani farebbero bene a investire perché come lo potranno scoprire meglio attraverso un ambizioso progetto di formazione che vede insieme amministrazione comunale di Sondrio unione del commercio e del turismo con commercio nazionale e consorzio BIM l'iniziativa si chiama Sondrio Turistica un percorso da condividere ed è promossa con Free Work Servizi un percorso formativo in quattro moduli della durata di quattro ore ciascuno rivolto sia a operatori del settore dell'accoglienza che ad aspiranti tali affidata a massimi esperti in materia con la mission di alzare l'asticella dell'attrettività di un territorio che per sua fortuna non deve inventare nulla ma soltanto proporre al meglio ciò che già naturalmente possiede Comincerà a parlare non solo di comunicazione di food experience di come valorizzare i prodotti locali di cosa vuol dire un'esperienza di come si declina questo concetto sia in termini di accoglienza che di proposta di cosa si intende quando si parla di prodotto turistico come farne un valore aggiunto sostanzialmente un asset da sviluppare per far crescere ovviamente la città e noi speriamo ovviamente che crescano possano crescere sia le attività già presenti e perché no magari qualcuno possa trarre ispirazione da questo corso per cercare di investire in città in nuove iniziative imprenditoriali di questo tipo Per la propria collocazione il capoluogo anche a detta del sindaco Marco Scaramellini presente oggi alla presentazione avrebbe le caratteristiche per diventare un hub per il turista un turista potrebbe venire e fare base a Sondrio e poi andare in montagna a Chiesa Val Malenco a fare delle arrampicate a Chiesa Val Malenco andare col trenino rosso addirittura usare il lago come riferimento usare la bicicletta d'estate da arrivare fino allo Stelvio insomma è veramente si posiziona dal punto di vista geografico come un vero hub e perché non pensare ad un grosso potenziale turistico al centro del corso di formazione anche la necessità di non vendere più un semplice prodotto ma il territorio nella sua enterezza noi abbiamo la fortuna di avere il prodotto e abbiamo anche il territorio dobbiamo coniugare le due cose oggi sicuramente dobbiamo costruire qualcosa attorno al territorio perché il prodotto già c'è un'opportunità dunque da non perdere quella dei moduli formativi per chi ha a cuore Sondrio e non smette di credere nel suo potenziale turistico seppure la recente chiusura dell'hotel Vittoria e l'inattività del grande hotel della posta porterebbero a fare altri pensieri siamo particolarmente fiduciosi del fatto che queste due realtà possono in qualche modo tornare a splendere questo è ovviamente l'auspicio innanzitutto perché sarebbe un bellissimo segnale per la città e perché sono due strutture che merito ma in ogni caso appunto perché comunque anche come amministrazione effettivamente sentiamo il dovere di come dire in qualche modo invitare chiunque abbia interesse ad investire e intraprendere in città e eventi formativi come questo ci sembrano particolarmente indicati e utili il taglio del corso che non prevede costi per la frequenza è divulgativo e i partecipanti possono scegliere se seguire uno o più moduli è aperto a tutti gli interessati e non sono previsti requisiti relativi all'attività svolta o alla residenza al termine sarà rilasciato un attestato per ulteriori e più dettagliate informazioni ci si può rivolgere a Free Work servizi allo 0342 217 646 oppure all'Unione Commercio della provincia di Sondrio allo 0342 533 311 Continua la campagna di vaccinazione anti-covid massiva per venire incontro alle esigenze degli anziani anche i comuni si stanno dando da fare a Sondrio trasporto gratuito a chiamata per chi deve recarsi al centro vaccinale e poi tornare al proprio domicilio a Tirano addirittura un ufficio gestito dalla protezione civile comunale che fornisce ogni genere di informazione ai vaccinanti sentiamo l'imperativo è vaccinare vaccinare e vaccinare e se la campagna massiva è ormai in moto e sembra pure procedere in modo spedito anche i comuni sono scesi in campo perché questa attesissima operazione di immunizzazione si svolga con il minor numero possibile di disagi a maggior ragione ora che è rivolta alle fasce più anziane della popolazione a Tirano al Civico 7 in Piazza Cavour grazie alla protezione civile comunale operativa o addirittura una sorta di sportello dedicato nasce un po' dall'esperienza anche di questo ultimo mese su certe difficoltà da parte delle persone di accesso alla campagna vaccinale a volte sembrano delle piccolezze delle stupidate ma risolvere anche o superare qualsiasi deterrente che può essere presente al fatto che una persona liberamente scelga la possibilità di vaccinarsi è comunque molto importante questo centro che si integra anche con un'altra struttura che è quella del Comune Servizi Sociali permette da una parte velocemente alle persone di prenotare secondo le loro esigenze quello che è il giorno e la data per la vaccinazione dall'altro è un punto d'ascolto per qualsiasi esigenza dove dovesse sorge un punto di riferimento assai utile a cui tutti sono invitati a rivolgersi per qualsiasi necessità esistono fasce come persone che in famiglia hanno disabili persone che curano disabili invalidi non autosufficienti oppure persone anziane non autosufficienti dove il fatto di dover stare via da casa magari usando il trasporto pubblico perché non hanno il mezzo privato 4-5 ore può essere una grave difficoltà soprattutto se non hanno familiari servizio di trasporto gratuito anche per tutti i cittadini che hanno difficoltà a raggiungere il centro vaccinale alla palestra dell'istituto Quadrio De Simoni a Sondrio l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni Iauser e Anteas e con la Croce Rossa è rivolta alle persone disabili agli anziani e ai residenti nelle frazioni in questo anno drammatico sottolinea l'assessore alla protezione civile Lorena Rossatti come amministrazione comunale abbiamo voluto essere vicini alle persone in difficoltà sostenendole e aiutandole a superare i problemi causati dall'emergenza sanitaria per tutte le iniziative promosse abbiamo potuto contare sulle associazioni del territorio con le quali abbiamo creato una rete che si è rivelata fondamentale per garantire il massimo supporto ai cittadini venuti a conoscenza dei problemi di persone sole che non sono in grado di recarsi in maniera autonoma al centro vaccinale ci siamo subito attivati per risolverli organizzando questo servizio gratuito le persone in stato di bisogno con problemi di salute o sole possono rivolgersi alle associazioni e chiedere il trasporto dalla propria abitazione al centro vaccinale di via Tirano e ritorno chiamando hauser allo 0342 211 667 oppure 333 592 5088 anteas allo 0342 527 818 oppure 333 444 1441 oppure ancora la croce rossa al numero 338 660 7575 intanto la campagna vaccinale massiva in provincia procede speditamente nei 4 centri di Sondalo Sondrio Morbegno Chiavenna a quali si aggiunge l'ospedale di Gravedona per il territorio dell'Alto Lago coinvolgendo i cittadini nati tra il 1942 e il 1951 in questi primi 4 giorni superate le 2000 prime dosi a tutti i cittadini prenotati che hanno già ricevuto l'appuntamento per il richiamo previsto dopo almeno 10 settimane per il vaccino AstraZeneca secondo quanto disposto dalla direttiva ministeriale i vaccini infatti prevedono tempi diversi tra la prima e la seconda dose 3 settimane per Pfizer 4 per Moderna e 10 per AstraZeneca per il resto della settimana il programma non subirà modifiche con la conferma di oltre 600 somministrazioni al giorno come annunciato si vaccinerà anche sabato e domenica e ora parliamo di una preziosissima convocazione sportiva quella grazie alla quale l'atleta di judo paralimpico Federico Dura parteciperà ai mondiali in Turchia in programma a maggio all'orizzonte e crociamo le dita le paralimpiadi di Tokyo ne parliamo nel prossimo servizio Federico Dura l'atleta paralimpico sondriese stacca il pass per il Grand Prix di judo in programma ad Antalya a Turchia dal 23 al 30 maggio prossimo una convocazione preziosissima per il judoca della categoria 73 kg chiave d'ingresso per la sedicesima edizione delle paralimpiadi che avranno luogo a Tokyo il prossimo agosto Federico lo siamo andati a trovare nella palestra sociale della piastra a Sondrio dove quotidianamente si allena assieme a papà Maurizio andiamo a fare questo Grand Prix per giudicarci punti per andare a Tokyo sperando di riuscire e sperando pandemia permettendo i miei programmi adesso sono qualificarmi per le paralimpiadi di Tokyo e aiutare questa palestra a decollare e aiutare tutte le famiglie anche perché la palestra sociale di Sondrio portata avanti tra mille sforzi ed il preziosissimo aiuto del comune del capoluogo è divenuta nel tempo un importante punto di riferimento non solamente per lo sport certo le chiusure imposte da questa tremenda pandemia non sono state il massimo ma c'è da dire che proprio grazie all'impegno di Maurizio che ha aperto le porte della palestra anche a quegli studenti sprovvisti di una connessione ad internet in tempi di didattica a distanza questo luogo si è rivelato un esempio di come se si vuole la solidarietà possa essere il motore trainante la via d'uscita dai momenti più difficili un riconoscimento alla perseveranza viene anche da una borsa di studio sportiva assegnata a Federico dalla Yuki Onlus di Milano per mano di Maurizio Dura a dimostrazione dell'impegno e della dedizione con cui l'atleta porta avanti la propria carriera agonistica portati per mano dalla Yuki Onlus questa organizzazione che lei e anche altre organizzazioni stanno supportando i nostri atleti agonisti diciamo un po' il fanalino anteriore di questa squadra è da tanto tempo Federico Dura nazionale paralimpica i giovani qua a questa palestra devono vederlo come uno spiraglio e capire che c'è un altro mondo oltre quello che conoscono magari sbagliato e allora avanti Federico facci sognare a partire dagli anni 80 la fondazione Luigi Bombardieri del CAI sezione valtelinese organizza la Sfinge Alpina rassegna di incontri dedicati a personaggi mitei e leggende legati alla montagna la pandemia ha impedito gli incontri in presenza ma grazie alla piattaforma Zoom la Sfinge Alpina è stata seguita e apprezzata in tutta Italia ce ne parla Paolo Croce siamo arrivati alla conclusione del ciclo di incontri dedicati a personaggi vicende e avventure dell'alpinismo in cabina di regia è il caso di dirlo il CAI sezione valtelinese sono state in tutto 12 le serate da fine gennaio oggi anche le limitazioni dovute alla pandemia sono state superate brillantemente anzi il CAI valtelinese con questa vetrina multimediale si è fatto conoscere in tutta Italia abbiamo fatto queste queste 12 incontri e direi che possiamo si dire che è andato molto bene abbiamo avuto la possibilità di avere grossi personaggi di far vedere degli ottimi film di presentare dei bei libri insomma un qualche cosa di interessante e fra l'altro grazie al fatto che con la pandemia abbiamo dovuto usare Zoom abbiamo avuto anche l'opportunità di aprire un po' i confini cioè mentre prima la Sfinge Alpina era ovviamente una manifestazione prettamente locale in questo modo hanno potuto conoscerci un po' da tutta Italia è tutto grazie per essere stati con noi arrivederci ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Telessondrio News buona serata grazie a tutti